ciao a tutti è primavera quindi è l'ora di far le prove per le varie situazioni che portiamo poi in giro per i palchi d'Italia per le nostre tournée quindi è anche la scelta dei piatti per il suono che vogliamo e per il lavoro che dobbiamo fare io insieme alla BOMAP SRL la mia azienda con cui collaboro da diversi anni abbiamo scelto dei Amedia Classic quindi sono dei piatti molto versatili e adatti per il pop e il rock perché presumo che questa è un'estate piena di pop il set è molto essenziale e quindi un charleston da 14, un crash da 16, un ride da 20 e un altro crash da 18 andiamo a sentire il suono di questi piatti nel pop grazie a tutti grazie a tutti bene sono molto belli a mio avviso quindi saranno i miei compagni di viaggio per tutta l'estate quindi vi ricordo Amedia Classic è una serie molto standard quindi versatile per il pop e per il rock sono veramente belli quindi ci vedremo in giro e io avrò con me questi piatti potete chiedermi tutto quindi mi raccomando se non li avete mai provati fatelo perché potreste cambiare idea sui vostri piatti ciao a tutti